Fred Film Radio 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 l'ultima volta abbiamo vinto con l'ussuria le anni d'oro è stato quando l'abbiamo vinto con l'ussuria però noi eravamo come tutta la truppa come tutta la delegazione già a toronto come schedule allora lì era tornato qui a venezia per prendere premio e lui con leone d'oro è tornato poi a toronto e l'ha messo a pranzo con tutta la delegazione in mezzo al tavolo e io ho pensato wow un giorno mi piacerebbe davvero averlo questo leone d'oro anch'io e il giorno questo giorno è arrivato e poi perché la mia relazione con venezia con i leoni d'oro comincia dall'89 e quindi veramente ogni volta è una bellissima sensazione speciale un'emozione veramente bellissima ma un mondo diversa volevo chiedere di questa cosa dopo a questo punto della sua carriera qual è secondo lei la funzione di un attore cosa cosa cerca e cosa qual è l'obiettivo che si pone quando recita in di un attore di un'anno che ci potete è il yangore si può trovare qualcosa? ha fatto un attuante sempli la televisione Io penso che sia un lavoro di squadra, perché io credo che sia un lavoro di squadra, perché un attore, nel mio caso, debba aiutare il regista ad esprimersi. In 41 anni di lavoro io ho avuto sempre il compito di alleggerire il ruolo del regista, a fare la mia parte, a fare ciò che mi compete bene, ma penso che sia il lavoro che deve fare ogni componente di questa squadra, come il scenografo, come il direttore della fotografia, eccetera. Il suo successo internazionale è molto legato a un regista che è Von Garry e a un film che è In the Mood for Love, un film che è diventato un manifesto di un certo modo di fare il cinema e ha aperto le porte verso un maggiore generale interesse verso il cinema orientale. e voglio sapere che ricordi ha di quel film e se avevate un'idea che sarebbe diventato così gigantesco, così importante. grazie a tutti. grazie a tutti. molto importante una situazione e anche in film storia in cui ciò che si tratta l'unico storia in cui ciò che si tratta di un'unico di unico che ciò che si tratta di unico che si tratta di unico Non avremmo mai pensato a tutto quello che sarebbe potuto essere mai predire, potevamo solo fare il massimo ciò che potevamo fare nel tempo presente. Margaret Wei, non è unale scoere le scoere di Stefano, è anche il nostro progetto. Oltre luifil кино. Oltre lui un'unico per il miglior di Stefano, ラン tree. Oltre lui che il tempo stanno paragonalmente, è che perchè la rotazione è un'unico per il perясaggio per il caso. Questo è un po' sottotitolo e per cui anche il mio sottotitolo con il nostro pericolo, con il suo reso unico pericolo. Penso che, come sempre, anche in A Moodle of Love è stato un grande lavoro di squadra, un team work, perché Christopher Doyle, William Hill, tutti i responsabili, la protagonista Maggie Jones sono stati tutti grandi nel creare un'ottima squadra di lavoro, come per tutti i grandi film. Grazie a tutti per essere stato ospite di noi e alla carriera dell'ottantesimo Mossa Internazionale d'Arte e Cinematografia di Venezia. Grazie molto. Grazie. A Mangio Dacerbi per Fred, the Festival Insider. Grazie. Grazie. Grazie.